Dietro le impalcature e la polvere che si alza al cielo ogni giorno dai cantieri della ricostruzione, quei cantieri tante volte maledetti per il disagio che portano alla vita quotidiana della città, si nasconde il popolo degli operai e dei restauratori che con un lavoro certosino e paziente riportano alla luce gioielli dell'Aquila. Sono l'esercito specializzato delle imprese che affiancano la ricostruzione idile vera e propria, curano il recupero archeologico e il restauro degli elementi danneggiati o distrutti dal sisma. Alle loro mani viene letteralmente affidata la rinascita dei beni monumentali aquilani, come Palazzo dei Nardis e il suo oratorio antica chiesa tardo-barocca appartenente alla famiglia omonima e gioiello architettonico straordinario in via San Marciano. Un lavoro specialistico che deve essere affidato a personale preparato, che sappia utilizzare tecniche di intervento modernissime nel rispetto dei materiali e delle procedure di costruzione originarie, tenendo conto delle norme di sicurezza e miglioramento sismico che fanno dell'Aquila il centro storico vincolato più sicuro d'Italia. L'aspetto straordinario è stato il recupero del cartiglio ridotto in mille pezzi? Sì, effettivamente il cartiglio è stato un recupero straordinario e direi anche abbastanza complicato, in quanto col terremoto era totalmente crollato, strappando anche le braccia dagli angeli. Noi abbiamo recuperato il 35% dei frammenti più significativi, l'altro 65% è stato ricostruito con una tecnica in stucco direttamente sulla parete, grazie anche a una fotografia che ci ha fornito la tutoressa Colasacco della sovrintendenza. Quindi abbiamo ridato forma e dignità a quest'opera straordinaria. Anche il soffitto è stata una sfida notevole, perché oltretutto abbiamo tirato fuori anche i colori originali del fondo e poi abbiamo ricostituito tutte le dorature, anzi l'argento meccato per essere più precisi, dove erano mancanti sui bracci in legno, quindi abbiamo ridato unità di cromia e anche di lettura al soffitto. Quello che notiamo alle nostre spalle è una vera e propria enciclopide della storia dell'Aquila. Sì, è un paleotto bellissimo, costituito da 27 formelle in maiolica decorata, proveniente dai laboratori di Castelli. Anche questo è stato un recupero interessante, in quanto abbiamo consolidato il 60% di queste formelle che erano quasi staccate al sopporto murario e abbiamo in realtà curato anche la parte estetica. Qui abbiamo l'Aquila, qui abbiamo l'inquadramento di Santa Maria di Collemaggio con Celestino V e qui ad esempio San Bernardino con San Bernardino all'epoca del grue. Questa è una scalinata che è stata ricostruita dopo essere stata smontata pezzo per pezzo in tutti gli elementi lapidei per permettere agli operai di inserire gli elementi antisismici, reti di acciaio, cerchiature, fiocchi di acciaio, altri elementi di acciaio che hanno poi reso appunto il palazzo antisismico, dopodiché tutti gli elementi lapidei sono stati riposizionati pezzo per pezzo dagli operai. Grazie.